Siete stanchi della solita cutaletta di pullo? Vaci da ve lo culo va fuori. Prima di tutto accattate le felle di petto di pullo. Zuppate nell'uovo di gallina kikri kik, miscate con sale e pepe povera bianca. Poi subito dopo le menatene il pane rattato, dovete fare una bella scorza. Quando le avete fatte tutte quante, non chittate l'uovo. Perché invece di farle normale alla milanesa, lo facciamo alla napolitana. Ed è una bella tiana, cominciata da scarfare, l'oglio per frivere. Poi prendete la cutaletta, la buttate nell'uovo, si deve azzeccare tutto turno turno. E a questo punto la friete. L'uovo però deve venire anche sopra, mentre frive. Così, mentre la manate, l'oglio scoppettiva per tutta la cucina, viene bella anzavata. A questo punto la buttate e la girate fin quando non si arrusca. E per evitare i rimorsi, asciuttate il grasso su un bel foglio di scottexo. E voilà, abbiamo fatto vicino due mulignane alla funghetto. Sempre per mantenere la linea del telefono occupato. Ve la faccio vedere anche spartuto a metà. È facile, veloce e troppo saporita. E come sembra, buon appetito.